Danilo Pisu, responsabile scientifico del progetto LifeStern. Andiamo a sovraguardare i due habitat naturali di grandissimo pregio, le saline e lo stagno di Casaraccio. Ci sono degli esemplari unici? Diciamo che ci sono delle specie che necessitano un avanzato stato di protezione, perché sono delle specie che stanno soffrendo come popolazione a livello europeo. Con queste due aree e due habitat importantissimi per tutta Europa, andiamo a salvaguardarle in diretta. Quali sono le specie? Abbiamo la garzetta, un piccolo airone bianco col becco nero, molto comune qui solo nella nostra area. Il cavaliere d'Italia, un bellissimo trampoliere con le zampe rosse. Soprattutto due specie di rondini di mare, la sterna e il fraticello. Come si articolerà l'intervento? L'intervento si articolerà con una parte di rinaturalizzazione della parte idrica dello stagno, proprio della laguna di Casaraccio, e in più degli incentivi alle aree di nidificazione di tutte queste specie, con anche delle zattere artificiali per la nidificazione di queste specie. Quanto durerà il vostro studio? Questo intervento durerà quattro anni, si terminerà nel 2015, a fine del 2015, e interesserà anche una parte di protezione di questi siti di nidificazione e un convogliamento del turismo, soprattutto in periodo riproduttivo, con delle passerelle e delle stagionate, in modo da non disturbare queste specie. Gavina Turra, direttore generale del Comune di Stintino, coordinatore responsabile del progetto Life Stern. Come si è arrivati a questo progetto? È stata una scommessa, praticamente. Ho letto il bando, il Life, se ne è parlato con l'amministrazione, si è colta la positività di questo intervento, per cui abbiamo deciso di tuffarci in questo impegno, buttandoci dentro a capofitto due persone, quindi io e un'altra dipendente, e un pool di tecnici esterni che ci hanno supportato in questo cammino, che praticamente è andato avanti per tutto il 2010. Agosto 2011 c'è stato il finanziamento. Da quel momento ci sono stati dei problemi, perché inizialmente noi avevamo puntato per l'acquisizione dello stagno Casaraccio, prima di una piccola parte, poi nel tempo l'amministrazione intendeva acquisirlo tutto. La proprietà invece non ha accettato quella che è stata la valutazione proposta dall'Agenzia del Territorio, per cui abbiamo rimodulato il progetto e spedito lo stesso alla comunità europea. Siamo in attesa che venga approvata la modifica, ma ho buone notizie perché giusto ieri ho ricevuto una mail dicendo che sono a buon punto. E quindi abbiamo spostato questo progetto sulle saline. La saline mira prevalentemente alla salvaguardia degli habitat, alla salvaguardia di tipi di uccelli, insomma di particolari tipi di uccelli, in particolare la sterna, messa in salvaguardia di tutta l'area delle saline. E poi sarà fruibile dalla popolazione attraverso passerelle che verranno costruite punti di osservazione e quant'altro. Qual è l'importo del finanziamento? L'importo del finanziamento è di circa 2 milioni di euro, di cui il 60% è circa 1 milione e 160 mila, finanziato interamente dalla comunità europea. Il resto invece interverrà all'amministrazione con azioni immateriali. Alessio Satta, direttore dell'Agenzia Conservatoria delle Coste, qual è il vostro ruolo nel progetto LifeSterna? La Conservatoria delle Coste è un'agenzia regionale in capo di assoluto all'ambiente che si occupa di gestione integrata delle aree costiere. Questo, il Comune di Stintino, è uno dei più importanti progetti che si occupa di gestione integrata delle aree costiere in questo momento in Sardegna, l'unico che ha riuscito a ottenere un finanziamento Life. La Conservatoria si occuperà di supportare il Comune in tutte le fasi del svolgimento del progetto, in particolare garantirà un supporto tecnico-scientifico nella delicata fase di realizzazione degli interventi. Salvatore Rubino, Presidente del Centro Studi sulla Civiltà del Mare, quale sarà il ruolo che giocherete all'interno del progetto LifeSterna? Il Centro Studi da anni si occupa qua a Stintino di divulgazione scientifica e di valorizzazione del territorio, proprio non solo di Stintino ma anche di tutto il Golfo dell'Asinara, quindi questo progetto molto importante e quindi ci vedrà protagonisti nel lavoro di divulgazione dei risultati scientifici e di sensibilizzazione delle scuole, ma non solo in collaborazione con l'Università.